ecco a voi la nostra meraviglia Ciro che ora non vuole disturbare perché sta mangiando la pappa ma volevo riprenderlo per farvi vedere che ora è cresciuto è ingrassato, ha rifatto un pelo bellissimo che sta totalmente ricrescendo e appoggia un po' meglio la zappa presto sarà operato per risolvere anche il problema dell'osso sul bacino e poi sarà adottabile bellissimo Ciro, simil pastore del caucaso molto simil 4-5 anni vive con la sua compagna Betta anche Betta si è ripresa, ha ripreso peso ed energie la sua orecchia si è completamente cicatrizzata è vero Betta? eccola qui, eccola qui Betta attenzione 4-5 anni 3-5 anni grazie a tutti Grazie a tutti.